Proseguo l'inchiesta sulla morte sospetta per il vaccino Pfizer a Vibonati. La procura di Lago Negro ha acquisito la documentazione e le testimonianze raccolte dai carabinieri della locale stazione e della compagnia di Sapri appena dopo il decesso ed ha individuato i due medici che dovranno procedere all'autopsia sul corpo del vigile urbano, struncato da un arresto cardiocircolatorio due ore dopo la vaccinazione anti-covid. L'affidamento dell'incarico avverrà sabato prossimo e sarà conferito al dottor Giuseppe Consalvo, medico legale di Eboli, e al dottor Antonio Perna, anatomopatologo di Napoli. I due professionisti avranno il delicato compito di stabilire se il vigile urbano di 62 anni, Michele Quintiero, con gravi malattie pregresse, è deceduto per cause naturali oppure la dose di Pfizer è stata per lui letale o se ha influito negativamente sul suo precario quadro clinico. Un'inchiesta importante perché, anche se va avanti sotto tono, di fatto mette in discussione la sicurezza del vaccino prodotto dalla nota casa farmaceutica statunitense. La data dell'autopsia non è stata ancora stabilita ma con molta probabilità avverrà lunedì prossimo. Alla procura i carabinieri hanno consegnato 15 delle fiale che avevano contenuto altrettante dosi di Pfizer somministrate dal centro vaccinale dell'ospedale di Sapri lo stesso giorno in cui è stato vaccinato la gente. Lunedì scorso il cuore di Michele si è arrestato tra le 20 e 30 e le 21, nemmeno due ore dopo la somministrazione dell'antidodo contro il covid-19 avvenuta tra le 19 e le 19 e 30.